La salva fino a chiaro, un nuovo assessore di 10 catene, quali sono i progetti di un nuovo assessore, di un giovane nuovo assessore? Sì, io devo dire di essere molto emozionato per l'incarico che mi è stato dato dal nostro sindaco, adonorevole Nicotra. Sono felice che mi abbia voluto nella sua squadra e spero di mettere a disposizione del sindaco di tutta la città il mio impegno, la mia voglia di lavorare e l'esperienza di questi due anni di consigliere. Rocco Torre, neossessore di 10 catene, quali sono le intenzioni di una nuova leva come assessore? Sicuramente di avere tutte le attenzioni e avere tutto l'impegno per la città, affinché a Cicatena cresca e sia veramente all'apice dell'economia, della cultura, dello sviluppo economico in Sicilia. Ogni carica che si va a occupare e che si deve andare ad espletare è sempre un'opzione. La cosa importante è che si lavora per la città. Io rappresento una parte dell'MPA a Cicatena e sicuramente cercheremo di fare bene per la città.